Tutto in una notte, o meglio, in 90 minuti. Il Teramo dopo oltre tre mesi ha un solo risultato domani sera al Ceravolo nel primo turno playoff contro il Catanzaro. La vittoria. Non ci sono alternative per i biancorossi di Ceteo di Mascio che oggi raggiungeranno la Calabria senza alcune pedine. Perché se Di Matteo è convocato dopo essere stato reintegrato in Rosa, ma andrà in panchina solo per onore di firma, per motivi diversi l'allenatore dovrà fare a meno di Tomei tra i pali, Lasic, problema al fressore, Costa Ferreira che si è appena operato alla caviglia e Fiore. Valentini andrà in campo e Lewandowski verrà in panchina. Ma il fatto che non ci sia pubblico sicuramente è un vantaggio per la squadra che va a giocare fuori casa. E come lo è, oggettivamente anche avere due risultati su tre. Forse la Virtus.frangavilla avrebbe fatto una partita più sulle caratteristiche dell'avversario. Il Catanzaro invece ha una sua sicuramente espressione di gioco, è una squadra che è abituata a esprimere le proprie caratteristiche indipendentemente dall'avversario. In dubbio la presenza di Tentardini che ha accusato un piccolo fastidio nel penultimo allenamento, quello prima della rifinitura, ma dovrebbe stringere i denti perché a sinistra di fatto qualcuno che possa giocare al suo posto non c'è. Archiviata la difesa a tre, come ha fatto capire Di Mascio in conferenza stampa, Piacentini sicuro titolare con Soprano avvantaggiato su Cristini, mentre Cancellotti andrà a destra. Viero è un ragazzo potenzialmente molto forte, ma ha bisogno di lavorare, è tanto. Quindi su Viero il nostro progetto è un progetto ambizioso, ma credo che possa iniziare dall'inizio della prossima preparazione, perché adesso in dieci giorni non possiamo trasformare Viero nella parte a lui ancora mancante. Al bando la partita di attesa, il Teramo andrà per fare la gara. Unico viatico per sovvertire il pronostico che vede il Catanzaro favorito e con due risultati su tre a disposizione. Sfatare il tabuceravolo non sarà semplice, ma potrebbe essere il primo passo di un cammino lungo, ma turno dopo turno, che potrebbe rivelarsi esaltante. Una squadra che ha due risultati su tre dovrebbero essere 66 e 33, quindi come percentuali, così a occhio. Però noi dovremmo fare in modo che mentalmente questo ci carichi di energia positiva e ribaltare a 66 a nostro favore rispetto al 33 del Catanzaro.